250 tamponi e questo il numero dei test che in queste ore la ASL sta effettuando sui dipendenti dell'ecotecnica, l'azienda addetta alla raccolta differenziata a Brindisi. Dopo il caso di positività comunicato sabato scorso, prima su Facebook dal sindaco Rossi e poi confermato dall'azienda, l'uomo residente a Carovigno, un addetto alla Guardiola, si trova in quarantena. Sia la ASL che l'ecotecnica stanno monitorando la situazione e il servizio di raccolta di rifiuti sta continuando senza creare alcun disagio ai cittadini. Pare che l'uomo risultato positivo nei giorni scorsi sia un contatto stretto di un altro caso di positività a Carovigno. L'ecotecnica ha assicurato che il dipendente risultato positivo non aveva svolto nell'ultimo periodo servizio di igiene pubblica. Nonostante tutto colleghi che erano stati in stretto contatto con l'uomo sono stati posti in quarantena. Nella mattinata di lunedì 31 agosto, quindi prima tranche di test, i primi risultati si potrebbero già conoscere nella giornata di martedì.